segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te la cosa interessante è quella di capire se una cosa come questa fatta in un contesto che sono le istituzioni c'è un consiglio comunale dove c'è il parlamentino del comune mi scusi ma quando hanno sparato addosso ad aldo moro se ce l'avessero fatta uscire l'avessero ammazzati tutti oggi stavamo a condannato ma non la capisco io a lei lo sbarchi in normandia va condannato lo sbarchi in normandia non potete andare dietro solo la vostra scarsa evidentemente conoscenza delle cose mettiamo ordine un secondo vi facciamo vedere l'altro elemento la vigilanza privata pagata da bandecchi vigilanza privata se lei mi dice allora vigilanza privata pagata da bandecchi bandecchi dice c'è un problema di sicurezza cosa faccio aspetto lo stato no siccome io ho un patrimonio di quanti quante 3 miliardi 3 miliardi me la pago io vediamo il servizio ma io non mangio oro però sui piatti sarebbe una caffonata di primo livello vediamo lei lo mangia no ma per carità ma per carità